mamma non mamma tra musica anni 70 80 90 e per finire house music per tutti sono le ore tre meno un quarto stiamo suonando dalle 12 quindi sono quasi tre ore e la gente non si muove dalla pista questo che cosa significa che abbiamo un dj che è il numero uno della campagna e sono sempre modesto paldoeste mamma non mamma in particolar modo mamma non mamma in questa sera davvero grande successo appoggio buonasera buonasera a tutti vi dico solo una cosa mi sta togliendo dal divertimento se non guardate la trasmissione se non venite qua ditelo a quelli che non ci hanno visto e fategli presente che questa è una trasmissione bellissima e ringrazio anzi saluto a nabella ciao nabella è importante anche ricordare qui abbiamo anche altre due presenze quella che è la struttura divisa del mamma non mamma per una tipologia diversa di offerta per quello che è il divertimento diciamo subito che questo locale il sabato sera si articola in tre diverse aree una sala discoteca per i ragazzi una champagne ria universitaria e infine una sala anni 70 80 con le persone più adulte con una sala liscio con pinoffi del carillon e lino p con la sala revival ora passiamo la parola d'ernesto che ci parlerà della champagne ria universitaria e si arresto per quanto riguarda quella che la champagne ria universitaria tu che ci dici guarda posso dirti che io sono 15 anni che faccio i locali e veramente quest'anno la mia prima esperienza mamma non mamma sono rimasto veramente impressionato consiglio da tutti i salernitani di venire a provare questa esperienza qui a mamma non mamma perché oltre ad un ambiente adulto c'è anche la champagne universitaria c'è un mix di gioventù sono un pr ho fatto diversi locali però come mamma non mamma mi posso garantire non esistono i locali e bene quindi alfonso non possiamo che testimoniare quella che è la polivalenza di questo locale a martedì al giovedì il locale a disposizione per festeggiare il vostro evento che la cosa più importante noi facciamo un sacco di feste qui da cui abbiamo fatto anche una splendida festa martedì del del dottor avvocato con reale che ha fatto ha festeggiato la sua la sua laurea in questo locale e poi partiamo dal venerdì che dal dal secondo venerdì di ottobre venerdì prossimo inseranno le serate latine poi ci sarà il sabato che è quello che vedete la domenica con un revival un liscio un disco un tutto un tutt'una domenica sarà la serata del divertimento qui al mamma non mamma e allora quindi non ci resta che ricordare alcuni punti essenziali ovvero il mamma non mamma dove si trova il recapito telefonico per le vostre prenotazioni a salerno è in via degli uffici finanziari capito telefonico 089 99 51 171 ma poi c'è il sito che vivi la movita punto it dove potete trovare tutte le informazioni su questo locale benissimo allora quindi noi mandiamo un bacio dal mamma non mamma io voglio ringraziare Pierpaolo e Ernesto scusami Pierpaolo e Ernesto perché sono delle persone squisite ci stanno affiancando in queste serate io sono orgoglioso e spero che tutti quanti possiate venire in questo locale per vedere effettivamente cosa significa il divertimento quindi provare per credere io ti mando anche i saluti da Antonio del wild west perché questa sera siete divisi un bacio vi aspettiamo è piacere di vederti qui al mamma non mamma guarda davvero guarda voglio i metali della margherita perché c'è una margherita qui con me ci stiamo divertendo è l'unica parola che posso attribuire il sabato sera un locale molto polivalente 70 80 all'altra sala vi aspettiamo il mamma non mamma ciao grazie Michele perché tu stasera hai scelto il mamma non mamma per la tua serata sapevo che venivi tu un bacio senti ma il mamma non mamma c'è sempre questa energia ogni sabato ogni sabato ragazzi quello che possiamo garantire è un sano e puro divertimento i nostri amici a casa che vengono a trovarci al mamma non mamma allo stato purissimo bene allora mandiamo parci al Virginia